una mostra che si intitoli l'ora dello spettatore può far sorgere qualche perplessità quando è che siamo spettatori in realtà sarebbe più facile chiedersi quando non lo siamo già che appunto lo siamo sempre anche quando non ci facciamo caso e lo siamo ora tanto più di fronte all'opera d'arte alla pittura che come si dice giustamente rappresenta rende presente qualcosa per noi e lo fa sempre di nuovo nel momento in cui qualcuno la guarda l'ora della pittura è sempre attuale nello sguardo e solo nello sguardo dello spettatore ed è proprio la pittura che ci ricorda o meglio ci svela la natura del nostro sguardo di cui spesso non ci accorgiamo ma per svelare deve pur farci vedere il velo il sipario la tenda la soglia della scena che fa lo spettacolo allo stesso modo in cui la cornice fa insieme tiene insieme il quadro e il suo spettatore come il velo di poppea la stoffa dipinta dalla pittura la stoffa dipinta che è la pittura aspira così a farci vedere di più proprio laddove sembra che vediamo di meno a farci accedere a un'eccedenza del vedere e per farlo ci usa si serve non solo della nostra illusione ma anche insieme della nostra collusione contando sulle nostre inclinazioni sulle nostre disposizioni più o meno spontanee sull'impazienza dell'occhio i suoi rapimenti le sue sviste i suoi abbagli un occhio che perciò ovviamente deve essere guidato dall'attenzione da un esercizio da una particolare dedizione se non devozione persino l'immagine chiede all'occhio di mettersi in moto in cammino per trovare la via segnata dall'immagine stessa e ripercorrerla personalmente così in questo venirsi incontro il rapporto tra chi guarda e chi è guardato cessa di essere un rapporto puramente oggettuale diventa la relazione tra un io e un tu una relazione riflessiva letteralmente l'osservatore diventa osservato ma come tutte le relazioni intersoggettive anche questa si protrae si rovescia e si complica a volte sono le figure dipinte a sentirsi addosso alle spalle lo sguardo indiscreto dello spettatore forse troppo curioso che lo voglia o no chi guarda si trova ad essere testimone a decidere da che parte stare o finisce magari suo malgrado nel ruolo del complice se non del correo ospite imprevisto o importuno nella tenda di giuditta e oloferne o nei panni scomodi di erode o erodiade che riceve impegno alla testa del battista da una salome troppo angelica per essere fededegna la complicità degli sguardi può però anche essere più tacitamente allettante più allusiva più seducente in fondo di fronte alle immagini siamo tutti un po wire come quelli famosi del mito della storia della bibbia marte davide gigi nel fascino delle opere nel piacere di guardare i dipinti c'è sempre qualcosa di erotico se non che le immagini non ci offrono soltanto l'oggetto del nostro desiderio o un suo surrogato a buon mercato ma ci mettono anche di fronte a noi stessi ci riguardano e ci scoprono a sbirciare come il celebre pipping tom della leggenda medievale di ledico diva come il pubblico di curiosi che si affanna a guardare attraverso la finestrella di quella misteriosa attrazione dipinta da tiepolo che prima dell'avvento della fotografia e del cinema è stata giustamente chiamata il mondo nuovo ma il mondo nuovo ora è il mondo divenuto immagine il mondo divenuto spettacolo solo che il vero spettacolo sono coloro che guardano siamo noi gli spettatori grazie 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 grazie